Buongiorno, adesso vediamo come si costruisce un esagono dato il lato quindi l'esercizio vi assegnerà la misura del lato da cui noi partiremo per disegnare la base quindi per prima cosa tracceremo la base della misura assegnata prenderemo poi il compasso passiamola un po' a questa base allora, prenderemo poi il compasso lo punteremo in un estremo della base diciamo che normalmente quello è il punto A e lo apriremo della stessa misura della base magari in modo un po' più preciso rispetto a me e tracceremo un bel arco lungo faremo poi la stessa cosa, quindi con la stessa misura dalla parte opposta quindi punteremo il compasso su B e faremo un bel arco lungo praticamente è lo stesso inizio della costruzione del triangolo equilatero dopodiché punteremo il compasso dove i due archi si incontrano quello che nel triangolo equilatero sarebbe C e tracciamo un semicerchio appunto che ha centro in questo punto abbiamo così trovato uno, due, tre e quattro vertici del nostro esagono cosa dobbiamo fare adesso? dobbiamo prendere il compasso sempre con la stessa misura che abbiamo usato fino a questo momento lo puntiamo in questa intersezione e facciamo un archetto facciamo la stessa cosa dalla parte opposta quindi lo puntiamo in questa intersezione e facciamo un archetto e come vedete abbiamo diviso la circonferenza in sei archi a questo punto con la matita 2H prima e poi per completare con l'HB uniremo in modo molto preciso i sei vertici che abbiamo trovato ed ecco il nostro esagono per completare la costruzione basterà assegnare ai sei vertici le sei lettere corrispondenti come sempre disegnare sulla lavagna col mouse non è il massimo però ce lo facciamo andare bene lo stesso questo è il vertice F questo lo chiamiamo normalmente O e il nostro esagono è completo e il nostro esagono è completo